Se non si sono ulteriori comunicazioni, procediamo con comunicazione. Presidente, non so se vuoi rientrare nelle comunicazioni, io la faccio qui perché non trovo lo spazio dove poter fare una proposta più che altro. Ho visto, ho letto che ieri si è celebrato un concerto in cattedrale per gli 80 anni della Corale Santa Cecilia. Ho letto anche qualche polemica, qualche espressione di delusione da parte dei componenti della Corale. Allora, io dico, faccio una proposta a tutto il Consiglio. Visto che abbiamo fatto tante cerimonie di conferimento di onorificenze a cittadini per emeriti, non è il caso che riconosciamo anche a questa istituzione che è veramente pregevole, che opera da 80 anni nella nostra città, portando alto il nome della città e appunto diffondendo cultura musicale con sacrifici e tanto impegno e successo di pubblico, perché è apprezzato da tanti cittadini, non sarebbe il caso di riconoscere un'onorificenza dopo 80 anni di attività al professor Rieluzzi e a tutti i componenti della Corale stessa. Io faccio questa proposta, spero che il Consiglio Comunale tutto all'unanimità l'accolga. Grazie, non so se intende metterla in un'ordine del giorno odierno, ma se ci scrive un testo lo possiamo apprezzare. Lo vogliamo fare già? Eh no, facciamola in un'altra, in cui invitiamo i membri. Va bene, va bene. Le lo faccio per venire poi. Si, in capogruppo nel Degno. Sì, sì, sì. Grazie e proseguiamo quindi con... Grazie a tutti. Grazie a tutti.